Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio garage. Oggi il grande fratello, il big boss della famiglia TopShack TS-PV3, avvitatore a percussione o ad impulsi con motore brushless 550 Nm di coppia, 3 velocità e quindi 3 coppie di serraggio selezionabili, batteria da 21V 4A e questo modello così come TS-PV2 rappresentano la nuova linea, la nuova generazione di avvitatori TopShack che però non sostituisce per il momento almeno il TS-PV1 che rimarrà ancora in vendita ma che vuole, vogliono rappresentare un cambio di rotta della TopShack verso utensili più affidabili, con caratteristiche più veritiere, rapporto qualità prezzo migliore, più curati e come vedete già lo vediamo dal fatto che invece di essere venduto in un semplice cartoncino ora vengono entrambi venduti con una simpatica valigetta, un caricabatterie degno di questo nome e tanti accessori. Mettiamo da parte il PV2, troverete il video nel canale, già ho fatto un video recensione e concentriamoci sul PV3, TS-PV3. Allora ragazzi vi anticipo, è una bestiaccia, già solo il rumore degli impatti all'esterno hanno fatto affacciare tutti i vicini e alla massima velocità da pure un contraccolpo. È una bestiaccia, veramente un avvitatore abbastanza poderoso. Però non vi voglio dire altro perché sono sicuro che capirete, sono sicuro che lo capirete nel corso del video. Allora Topshack TS-PV3, lo trovate da Banggood, ha un prezzo base intorno ai 120€ però come ormai è consuetudine da tutti gli utensili Topshack e comunque su Banggood c'è sempre un codice sconto applicato che può essere da un minimo di 20-25% fino anche a un 50-60%. Prima di registrare questo video ho preso il prezzo attuale 115€ meno 40%, 70€. 70€ abbiamo avvitatore, batteria, caricabatteria, tre bussole Impact, tutto in una valigetta. Perché vedete questa dinamometrica enorme? Perché per testare i 550 Nm di questo avvitatore avevo bisogno di una dinamometrica con una scala almeno fino a 500. Ora avviciniamo la telecamera e vediamo com'è fatto questo avvitatore. Però mettiamo da parte questa dinamometrica gigante. Allora ragazzi intanto quello che vi dicevo prima il grande fratello della famiglia in quanto sia come dimensioni che come caratteristiche è più grosso dei tre. Se li metto in prospettiva capirete che è di dimensioni abbastanza generose. La linea generale però è molto simile al pv2 praticamente ha la stessa sagoma solo di dimensioni più grandi. Tutta la scocca è in plastica abbastanza rigida. Parte gommata sull'impugnatura per avere più grip. L'impugnatura è piuttosto larga quindi si impugna bene anche con i guanti e c'è abbastanza spazio come dicevo anche per il pv2 per indossare i guanti. Alette di raffreddamento che ci fanno vedere la ventolina del motore. Non vedremo scintille perché il motore è un motore brushless. Alette di raffreddamento anche qui che ci aiutano a dissipare leggermente il calore della batteria. Batteria che come vedete è combatibile Makita così come tutti gli altri avvitatori a percussione il pv1 il pv2 e questo pv3. In questo caso da 4 ampere e 21 volt. Questo lo vedremo poi nel corso del video. Parte gommata ha anche parte posteriore e come vedete oltre alla batteria più grande rispetto al pv2 è anche molto più grande la parte metallica questa calotta dove contiene il meccanismo della percussione l'incudine e il martello che generano gli impatti. Questa bussola l'ho messa io e una 32 ma all'interno della confezione troviamo tre bussole. A proposito di confezione questo avvitatore così come il pv2 è venduta all'interno di questa valigetta. Questa è una novità per top shock. Valigetta molto carina linee abbastanza futuristiche logo top shock. Aperture con clip di plastica e all'interno della valigetta troviamo il nostro manuale di istruzioni. Valiantino per la garanzia dei piano informativo sito top shock manuale di istruzioni scritto anche in italiano. Le tre bussole impact abbiamo una 19 una 17 e una 22 come vedete le bussole sono con l'attacco da mezzo pollice quadrato perché perché appunto mezzo pollice quadrato è l'attacco di questo avvitatore. La bussola da 22 viene fornita con un o-ring e la classica spinetta che si utilizza quando bisogna fare tanti lavori per evitare che con le sollecitazioni la bussola si sfila da sola. Naturalmente ragazzi anche se non utilizzate la spina, l'ho fatta cadere, la bussola rimane inserita perché c'è questa molletta che stringe la bussola alla fine. La spina diciamo che serve quando andiamo a stringere qualche dado o bullone di grosse dimensioni e poi la nostra bussola si incastra un pochettino sulla testa del bullone quindi tirando il nostro avvitatore non rischiamo di lasciare la bussola attaccata al bullone o al dado che stavamo avvitando. All'interno della valigetta possiamo riporre il nostro avvitatore con la bussola inserita e c'è lo spazio per un'ulteriore batteria eccolo qua tutto molto ordinato e finalmente guardate cosa c'è qua un vero e proprio carica batterie questa volta il carica batterie ha un amperaggio dimensionato alla batteria da 4 ampere in dotazione 2.3 ampere quindi in teoria ci dovrebbe stare poco più di due ore per caricare completamente questa batteria è dotato di fori di fissaggio possiamo appenderla alla nostra parete mille fori o direttamente al muro o se abbiamo una parete in legno mettiamo due tassellini lo slot come vedete la la slitta del caricabatterie quindi della batteria dell'avvitatore sono compatibili con le batterie makita ma quindi compatibile anche con il pv2 e il pv1 è arrivato il momento di inserire la batteria e sentire il ruggito che fa allora velocità 1 da un bel contraccolpo classico rumore del motore brushless veramente potente parte frontale abbiamo visto una luce led che ci aiuta a vedere meglio la zona dove dobbiamo andare a lavorare luce che come vedete rimane accesa per qualche secondo una decina di secondi dopo aver rilasciato il nostro grilletto il grilletto è modulabile e ci consente di modulare appunto la velocità di rotazione e nel momento in cui si innesca la percussione il numero di impatti numero di impatti che può arrivare fino a 3000 battiti al minuto classico selettore per il senso di rotazione e in questo modello a differenza del pv1 e del pv2 non abbiamo la funzione per svitare in modo automatico cioè quella funzione che ci consente di tenere premuto il nostro grilletto di accensione e dare all'elettronica interna il controllo per svitare il nostro dado il nostro bullone praticamente finché il bullone il dado oppone resistenza continua a battere appena si allenta smette automaticamente questa volta non ce l'abbiamo abbiamo un pannello di controllo come vedete con due sezioni 1 2 3 queste qua riguardano la carica della batteria che ora è al massimo mentre 1 2 3 riguardano il selettore per la velocità di rotazione velocità numero 1 da 0 a 1550 velocità numero 2 da 0 a 1850 velocità numero 3 da 0 a 2200 sulla parte posteriore così come il pv2 e il pv1 abbiamo un laccetto che ci consente di poterlo appendere se abbiamo noi il gancetto da da mettere sulla nostra cintura oppure utilizzando i gancetti come questo nella nostra parete mille fori come ad esempio quella la è arrivato il momento di verificare i dati dichiarati da top shock verificheremo il peso la velocità di rotazione in prima seconda e terza velocità andiamo a vedere ora la batteria all'interno che celle utilizza e poi faremo la classica prova per vedere le coppie di serraggio in prima in seconda e in terza velocità e vediamo se in terza velocità riesce a raggiungere i 550 nm dichiarati allora iniziamo col peso e la bussola da 22 inserita 2 kg e 400 g è parecchio imponente molto grande dimensioni abbastanza generose allora velocità di rotazione corichiamolo prima velocità allora 1500 1550 dichiarati a posto seconda velocità 1900 1850 dichiarati la batteria l'ho tolta in questo momento da carica batterie terza velocità addirittura 2400 contro i 2002 dichiarati bene 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 andiamo a vedere ora la batteria come all'interno allora vediamo il nostro allora usciamo allora qui vediamo il nostro circuito bms questo avvitatore è dotato di protezione al sovraccarico così come pv2 e protezione al suo riscaldamento della batteria siccome questo tipo di avvitatore anche se è brushless e consuma diciamo meno quando richiede parecchia energia quando il nostro lavoro è continuativo e non facciamo pause le celle potrebbero riscaldare per evitare di rovinarsi questo circuito manda in blocco la macchina manda in blocco tutto e la fa ripartire solo quando la temperatura scende a valori normali inoltre questo avvitatore è dotato di un blocco al sovraccarico se stiamo chiedendo troppo al nostro avvitatore e potrebbe danneggiarsi il motore brushless si blocca si ferma automaticamente va in protezione una volta che poi raffredda riparte senza problemi anche qui c'è la predisposizione per utilizzare il vecchio caricabatterie considerate però che questo qua ha solo 1.2 ampere quindi ci vorrà parecchio parecchio tempo per caricare completamente questa batteria le celle sono delle 18 650 e da 2 ampere 2 e 2 fanno 4 quindi valore dichiarato per quanto riguarda amperaggio reale 19.6 volte lo stiamo misurando dopo tutti i test che abbiamo fatto in esterno quindi uno due tre tre partiamo da 150 newton metri 150 scatta 160 non si è mossa 170 non si è mossa 180 non si è mossa 220 ha fatto lo scatto 320 340 si è spostato 300 320 340 360 380 e non si è mossa 440 440 e si è spostato si è spostato leggermente questa era stretta la coppia di riserraggio della coppia di serraggio alla velocità 3 ok 500 ok 500 ok 500 si è spostato andiamo sotto perfetto scendiamo 480 500 500 e non si è spostato 520 540 questo lavoro tenuto due secondi in più 540 ok 540 si è spostato 540 si è spostato 540 si è spostato questo fa capire che anche i tempi di permanenza degli impatti cambiano un po' la coppia di serraggio quindi ragazzi in definitiva possiamo dire che in velocità 1 quindi da 0 a 1550 giri ha una coppia di serraggio orientativamente tra i 320 e 340 newton metri in velocità 2 quindi fino a 1250 giri ha una coppia di serraggio tra i 420 e 430 newton metri in velocità 3 la massima fino a 2200 giri più o meno siamo 520 530 quindi sono 100 newton metri alla volta a partire da 320 diciamo 320 420 e 520 consideriamo che nell'ultima prova a 520 la dinamometrica ha fatto subito lo scatto e a 530 ha fatto una piccola rotazione prima di scattare diciamo che tra 520 e 530 newton metri contro i 550 dichiarati mi sta bene mi sta veramente bene abbiamo un 20 newton metri in meno del massimo dichiarato dalla top shock e 20 newton metri su 550 diciamo non sono niente mi sta bene mi sta bene così allora ragazzi questo avvitatore è una vera forza è una vera forza oltre ai test che avete visto io l'ho utilizzato per avvitare dei tirafondi tirafondi 10 per 150 per 160 non ve lo faccio vedere nel video perché appena il tirafondo entrava per quasi la sua metà in un tronco che ho tagliato me lo rompeva me li ha rotti tutti anche alla minima coppia di serraggio anche a 300 newton metri me li ha rotti tutti quindi oltre a quello che vi ho fatto vedere non ho modo nel mio garage con le moto con le macchine di farvi vedere alcuni esempi su come si può utilizzare questo avvitatore ma sono sicuro che se state già andando a vedere un avvitatore del genere già sapete come utilizzarlo quindi ragazzi top shock ts pv3 buo ottimo mi piace ve lo consiglio lo trovate da ben good vi metterò il link in descrizione e se ho un codice sconto ve lo metterò sotto il link tra parentesi vi consiglio anche di acquistare un buon kit di bussole impact ragazzi non utilizzate le bussole normali come vedete io la 32 ce l'ho sia normale che impact perchè con queste potenze con queste coppie le bussole normali anche di qualità le distruggete quindi vi consiglio di acquistare un buon kit di bussole impact e scegliere il kit con le misure che più utilizzerete se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella e iscrivetevi al gruppo facebook top shock italia dove si parla di tutto quello che è top shock aggiornamenti codici sconto offerte e promozioni ciao grazie